Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Linux Mint nelle cartelle di rete condivise da Windows. Uno dei rimproveri che talvolta viene mosso a Linux è quello che riguarderebbe la difficoltà di comunicare con Windows o accedere a cartelle o file condivisi in rete da Windows. Io non direi, bastano pochi e semplici passaggi per condividere file e cartelle tra computer Windows e Linux nella rete locale. Accedere a condivisioni di rete Windows e anche dispositivi di rete condivisi come NAS è abbastanza semplice e rapido con Linux Mint. Linux ricorre all'insieme di protocolli di rete chiamati Samba. Insieme alle capacità di gestire i contenuti di partizioni NTFS come quelle di Windows, di fatto puoi accedere con Linux a cartelle già condivise nella rete locale da postazioni Windows. I computer possono essere connessi via cavo LAN o in Wi-Fi, purché ha lo stesso router. Io uso Linux Mint, ma le indicazioni dovrebbero andare bene per qualunque distribuzione GNU Linux su base Debian. Se sei nuovo alla condivisione Windows, seleziona un'unità o una cartella che vuoi condividere e con il pulsante destro vai su Proprietà, Condivisione, Condivisione avanzata. Attiva la spunta su Condividi questa cartella e indica un nome per la risorsa condivisa. Puoi anche aggiungere un commento per semplificare la successiva identificazione dei contenuti. Accedi poi a Permessi e attiva i segni di spunta su Everyone e imposta tutti i permessi. Clicca su OK quando hai fatto e chiudi la finestra. Ricorda che devi attivare l'individuazione del computer Windows nella rete per riuscire a condividere la cartella. Le trovi in centro Connessioni di rete e condivisione, Impostazioni di condivisione avanzate. Per poterti collegare alle condivisioni di rete Windows con Linux Mint, devi conoscere l'indirizzo IP della macchina su cui si trovano le cartelle condivise. Puoi vederlo dalle proprietà della connessione attiva del computer ospite, come dettaglio IPv4 che di solito comincia per 192.168. Passiamo poi a Linux. La prima cosa da fare è installare Samba. Apri il gestore pacchetti, Synaptic e cerca Samba. Con il pulsante destro clicca su Installa e verificherà i pacchetti aggiuntivi che necessitano di essere installati. Poi su Applica e conferma le operazioni di installazione. Apri il file manager di Linux Mint e da File, connetti al server. Inserisci l'indirizzo IP della macchina Windows cui vuoi accedere e dall'elenco a discesa sul tipo di connessione accerta che sia selezionata Condivisione Windows. Indica il nome utente del computer Windows e la relativa password di accesso. Non è necessario intervenire sul percorso, puoi lasciare lo slash per poter vedere tutte le condivisioni. Se il tuo account è nella forma nome-microsoft.com dovrai indicare il nome utente nell'apposito spazio e microsoft.com nello spazio dominio. Altrimenti il dominio dovrebbe essere Workgroup in maiuscolo, ma Linux Mint dovrebbe riempire il campo da solo al primo tentativo di connessione. Clicca su connetti ed il file manager ti mostrerà tutte le cartelle condivise dall'indirizzo IP indicato. Se non hai specificato alcuna cartella in particolare al momento della connessione le vedrai tutte. Nel riquadro laterale del file manager e sul desktop vengono create icone per l'accesso diretto alle cartelle di rete montate nel sistema. Quando accedi ad un ADS potrebbe venirti chiesto per la prima volta se vuoi connetterti anonimamente o come utente registrato. Per ottenere completo accesso e permessi sulla macchina ospite ti consiglio di procedere nel secondo modo indicando nuovamente le credenziali dell'account Windows. Se tutto va bene adesso dovresti essere in grado di accedere, creare, copiare file e cartelle accessibili sia da Windows che da Linux. Se incontri problemi in più delle volte puoi trovare soluzione verificando quanto segue. Se non sei l'amministratore della rete o del router non c'è molto da fare se non ti aiuta lui. Comunque verifica come già detto di avere il profilo privato di rete attivo in Windows e che si attiva l'individuazione e condivisione di file stampanti. Prova ad accedere alla sezione tutte le reti per disattivare l'uso delle password per l'accesso. Quindi attenzione ricorda di rimettere l'opzione più sicura quando devi collegarti tramite reti non private. Il firewall di Windows attivo non dovrebbe interferire ma prova a disattivarlo. Anche in Linux se il firewall è attivo devono essere impostate le regole che consentono ai protocolli Samba di muoversi nella rete. In Linux Mint da impostazioni del firewall vai su regole, premi più e individua tra le regole di rete Samba. Poi clicca se lo aggiungi e chiudi. Se non hai ancora risolto dopo questo verifiche ti consiglio di fare riferimento al forum di Linux Mint o della tua distribuzione o a ricerche web del tipo Linux Mint 20 Samba oppure Linux Mint 20 rete mista o in inglese Linux Mint 20 Windows Shares. Vedo infatti tante situazioni differenti su cui non sarei in grado di dare alcun consiglio perché non le ho mai affrontate. Inoltre non è facile capire in quale anello della catena Windows router Linux risieda il problema. Ma come potrai notare molto spesso i post sono accompagnati dalla dicitura risolto o solved. Se ancora non riesci a risolvere registrati nel forum e chiedi direttamente aiuto perché lo trovi sicuramente, perlomeno nei forum su Linux. Da Windows a Linux tutto un altro conto è consentire a Windows di accedere ad eventuali cartelle condivise in rete locale da Linux Mint. Perché mentre Linux gestisce in modo nativo partizioni NTFS su cui si basano le cartelle condivise da Windows, finora non si poteva dire l'opposto. Windows non ha ancora supporto nativo per le partizioni Linux. Ma ci sta arrivando. Un modulo aggiornato di Windows 11 consente di installare una nuova versione del sottosistema Windows con nuove funzioni tra cui il supporto per partizioni nel formato XT4 tipico delle attuali distribuzioni GNU Linux desktop più diffuse. La configurazione richiede di intervenire da riga di comando nella PowerShell di Windows e non è molto immediata. Nella descrizione metto due link ufficiali sul tema se vuoi approfondire. Quando le cose saranno più semplici ed evolute magari ne riparleremo. Nel frattempo continuo ad entrare con Linux nelle cartelle Windows ma non mi dispiace se Microsoft non viene ancora a fugare nel file system della mia installazione di Linux Mint. Grazie per la tua attenzione e alla prossima. Ciao!